Ciao a tutti da Diego di Tecnofon, ci troviamo al Showstopper. Adesso vi mostrerò una nuova tecnologia che vedremo ben presto sui nostri smartphone. Abbiamo due pazzoletti. Abbiamo due pazzoletti, sono due semplici Kleenex, da una parte fa come un pazzoletto normale e mentre l'altro pazzoletto che vedete è completamente resistente all'acqua. Il pazzoletto è un po' di pazzoletti, è così finito che non puoi farlo, puoi sentire, ma è l'acqua. E' assolutamente resistente all'acqua. Vediamo anche il pazzoletto con il bicchiere. Perfettamente asciutto. E' davvero incredibile questa nuova tecnologia. Vedete questo invece è completamente bagnato. Pensate che potremo poi vederlo ben presto su tutti gli smartphone e renderà il nostro telefono resistente all'acqua. Grazie.